Una reciproca collaborazione al fine di valorizzare i talenti locali è quanto sancito ieri nell'ambito di un accordo tra l'Udinese Academy e la Mogela. Dalla stagione agonistica che sta per cominciare, la società gelese entrerà a far parte dei circuiti, delle accademie e della squadra bianconera che milita nel massimo campionato di Serie A. L'obiettivo è quello di riconoscere il talento e lavorare per accrescerlo mettendo in risalto la sfera umana e formativa del ragazzo. Quando abbiamo incontrato questa società abbiamo ritrovato dei valori molto vicini al nostro modo di lavorare e allora insieme siamo stati contenti di partire in questo percorso perché tutti i mesi i nostri tecnici verranno e cercheranno di crescere la qualità di quella che è la proposta che andrà poi a far crescere i bambini e i ragazzini. Quindi l'obiettivo centrale del progetto è di portare un servizio educativo ma soprattutto tecnico, quindi tecnico educativo nella crescita del calciatore e dell'uomo e portarlo concretamente. Quindi noi daremo la presenza e soprattutto anche tante aree di sviluppo che andranno ad arricchire il patrimonio già esistente nelle società che lavorano con noi. Avere la possibilità per realtà locali di entrare in contatto con realtà professionistica ti vuole dare un valore aggiunto che oltre all'aspetto tecnico noi teniamo molto all'aspetto anche formativo ed educativo dei ragazzi. Per noi ancora prima di andare a curare determinati aspetti è importante che i ragazzi capiscano dove si trovano, cosa stanno facendo e che mostrino quella sensibilità e quella concentrazione sul lavoro che devono andare a fare. Perché a noi piace dire che bisogna sapersi divertire ma con serietà, nel senso che comunque non posso imparare se comunque non mi dedico in maniera attenta a quello che sto facendo. Quindi il nostro compito è proprio questo, di dare questa cultura del lavoro non dimenticandoci mai dell'aspetto ludico. Previsti durante la stagione incontri mensili con i tecnici dell'Udinese Academy e corsi di formazione, stage a Udine e altre attività collaterali. È un percorso nuovo, finalizzato sempre alla crescita dei giovani e quindi del settore giovanile, cosa che ci ha sempre contraddistinto negli ultimi anni e fin dalla nostra nascita come associazione sportiva. L'obiettivo è sempre quello di far emergere talenti, giovani, non solo per la nostra società ma anche per ciò che riguarda tutto il territorio.